A Bassano, commercianti e imprenditori preoccupati per le nuove norme restritive del decreto del governo. Telespettatore segnala il degrado della strada che porta a grappa e il sindaco si impegna a provvedere. Paura per un pilota di parapendio rimasto sospeso a 8 metri d'altezza recuperato dal soccorso alpino. Numerose limitazioni per i locali, Covid blocca anche il gioco della briscola penalizzando gli anziani. Conclusi in Val Brenta i campionati di rafting organizzati con grande successo nonostante le limitazioni Covid. Benvenuti all'informazione di Bassano che apriamo con il bollettino di Azienda Zero sui dati Covid di oggi, un bollettino che parla di 103 nuovi contagi per la giornata di oggi, mentre per quanto riguarda dei quali 39 a Vicenza, che è la provincia con più casi positivi registrati. Per quanto riguarda i ricoveri invece ci sono 9 ricoveri in più in terapia non intensiva, mentre non ci sono variazioni e quindi casella con 1-0 sia per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva che i decessi. Ma oggi era anche il giorno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi del Premier Conte, per cercare di fermare l'aumento dei contagi. Sentiamo quali sono i punti principali. Delicato incontro Stato-Regioni per la definizione del DPCM che viene presentato in queste ore per quanto riguarda le scuole superiori, sembrerebbe esserci un accordo con le Regioni sullo scaglionamento degli ingressi degli studenti e la didattica distanza-rotazione. Per alleggerire i trasporti, il Ministero è disponibile a potenziare il sistema del trasporto pubblico locale anche con i bus turistici. In nodo ristoranti ha fatto discutere a lungo il Governo con le Regioni e la soluzione raggiunta conferma la chiusura alle 24. Per i bar, i pub e altri locali viene anticipato alle 18 lo stop alla vendita, non al tavolo. Si va verso lo stop a sagre e fiere locali, discussione delicata su palestre e piscine. Insomma, un decreto che interessa molto da vicino anche i nostri territori e naturalmente anche Bassano. Mercoledì ci sarà la diciassettesima tappa del Giro d'Italia che partirà da Bassano. Un po' per questo motivo, un po' per le restrizioni Covid che sono annunciate, il Sindaco Pavan ha incontrato le categorie economiche anche per tastare il polso della situazione. Sentiamola. Chiaramente c'è preoccupazione e legittima preoccupazione perché un po' la sensazione è quella che a Roma per semplificare la vita loro punteranno a dare un'unica regola uguale per tutti che chiaramente andrebbe a penalizzarci pesantemente. La speranza è quella che in realtà in seno alla conferenza Stato-Regioni si riesca ad ottenere che se alcune norme devono essere uguali per tutti, sia rimessa in realtà la possibilità alle Regioni di poter decidere con alcune altre regole specifiche per la Regione stessa. Quindi speriamo di poter avere questa libertà. sempre sul fronte dell'economia bisogna aiutare le imprese. Il neoconfermato assessore dell'attività produttiva Roberto Marcato conferma abbiamo un piano di recovery plan veneto da sottoporre al governo. Noi abbiamo già lavorato sul recovery fund, io ho convocato tutte le categorie economiche un mese fa. Abbiamo preparato un recovery plan che poi è stato portato in giunta in una delle ultimissime giunte o addirittura l'ultima giunta e adesso lì il Presidente ha un documento con cui inizierà l'interlocuzione con il governo. Intanto io credo che sia importante che in Veneto arrivino le liquidità necessarie per dare una mano alla ripresa economica. non fosse altro, e questo io lo dico ai rappresentanti di governo, non fosse altro che rimettere in moto regioni come la Lombardia, il Veneto e le mie Romagna, che tra virgolette sono quelle più colpite dal Covid, rimettere in moto da subito significa rimettere in moto l'economia del nostro paese. Infatti io per esempio non ho capito francamente l'ennesimo provvedimento fatto per le regioni del meridione, che finirà in un nulla di fatto come è sempre stato, dimenticandosi in realtà delle regioni traino, cioè quelle che riescono a mettere in moto anche le regioni del sud attraverso la loro ripresa economica. Cambiamo argomento, un telespettatore di Rete Veneta ha mandato una segnalazione sulle strade di Romano Dezzelino, noi siamo intervenuti, abbiamo chiesto una risposta al Sindaco, sentiamo come è andata. Strade strette, traffico intenso, anche di mezzi pesanti, erbacce da tagliare e tombini con le guarnizioni rovinate, che diventano molto rumorose al passaggio di automezzi. È questa la segnalazione che ci è arrivata in redazione da un nostro telespettatore e che riguarda Romano Dezzelino, comune attraversato spesso da chi vuole poi raggiungere Grappa. Per arrivare a cima Grappa, infatti, sostiene il nostro interlocutore, questa è la via più importante, perché può essere percorsa anche da trattori, autoarticolati e autobus. E poi ci sono anche comuni che richiedono un'autorizzazione per attraversare alcune strade. E serve una soluzione, anche perché, ricorda lo spettatore, il biglietto da visita deve essere di quelli che colpiscono. Romano Dezzelino fa parte dei 25 comuni del progetto Mab-UNESCO-Biosfera-Monte Grappa, che lega tre province, Belluno, Treviso e Vicenza. È pronta, è arrivata la risposta del primo cittadino a cui abbiamo girato la segnalazione. Mi ero mosso per sollecitare chi di quella strada ha la competenza, quindi la provincia. Non si sono mossi, non hanno dato una risposta rapida, per cui sarà il comune intervenire e effettuare lo sfalcio di quel tratto di area. L'altra piccola segnalazione che riguarda anche la pulizia dei tombini è conseguente alle evidenti e grosse priogge che sono accorse nel mese di agosto. Abbiamo in queste settimane incaricato una ditta di effettuare una pulizia straordinaria di tutte le caditoie. Il nostro compito è quello di girare le segnalazioni a chi di dovere e poi di verificare che i provvedimenti vengano presi e le situazioni risolte ed è quello che Rete Veneta ha sempre fatto e continuerà a fare. La cronaca, violento incidente a Pozzo Leone, per fortuna senza feriti, un'auto rimane in bilico sul ciglio del canale. Violento scontro tra due auto a Pozzo Leone con disagi per il traffico. Un uomo di 43 anni, residente in Svizzera, alla guida di un van, percorreva via Bassanese proveniente da Nove in direzione di Tezze sul Brenta, quando per causa in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta. Una ragazza 26enne di Tezze sul Brenta, che proveniva dalla direzione opposta alla guida della sua utilitaria, non è riuscita a evitare l'impatto. Il van è uscito dalla carreggiata, strappando il guardrail e terminando la corsa sul ciglio del canale a sinistra, per poi rimanere pericolosamente in bilico sul corso d'acqua. Fortunatamente nessuno dei due conducenti è rimasto ferito. Intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza, che hanno messo in sicurezza i due veicoli, rilievi e regolazione del traffico affidati a due pattuglie della polizia locale nord-est vicentino di staccamento di Sandrigo. Colpisce da dietro un'auto ferma. Gli agenti della polizia locale accertano che era alla guida in stato di ebrezza. È accaduto a Tiene. Violento tamponamento a Tiene tra due auto in via Colleoni e all'incrocio con via Monsignor Pertile. Un 39enne nato in Marocco e residente a Tiene, verso mezzanotte, stava tornando verso casa con la sua auto, insieme alla moglie e i due figli di 1 e 4 anni. Quando si è fermato per svoltare a sinistra, però, è stato violentamente colpito da dietro da un'altra auto, condotta da un cittadino bosniaco di 30 anni, anche egli residente a Tiene, che ha poi perso il controllo del mezzo, anche a causa dello stato di ebrezza, verificato poi dagli agenti intervenuti con l'etilometro. La moglie del 39enne è rimasta ferita ed è stata poi trasportata con un'ambulanza del suo M118 all'ospedale di Sant'Orso per accertamenti. Sul posto una pattuglia della polizia locale nord-est Vicentino per i rilievi e la regolazione del traffico, ancora molto sostenuto nonostante l'orario notturno. E paura per un pilota di parapendio caduto sul grappa, rimasto sospeso a 8 metri d'altezza, che è stato poi recuperato dal soccorso alpino. Un parapendio è precipitato nel bosco a Borso del Grappa, all'altezza del sesto tornante della strada Generale Giardino. La centrale del 118 ha allertato il soccorso alpino della pedemontana del Grappa. Non avendo indicazioni chiare sulle condizioni del pilota, sul posto si è portata a una squadra assieme al personale medico del SUEM di Crespano. Una volta in contatto con l'uomo, un 32enne tedesco, è stato possibile apprendere che non era ferito. Pur vedendo la vela da valle sopra l'abitato di Samonzo, più complicato è stato invece raggiungerla tra la vegetazione. Quando sono arrivati sotto l'albero, su cui si trovava sospeso l'uomo, i soccorritori sono saliti con tecniche di tree climbing a 8 metri d'altezza, hanno assicurato il pilota e lo hanno calato a terra. Numerose le limitazioni per i locali con chiusura anticipata, regole ferre da seguire, il Covid-19 ha bloccato anche il gioco della briscola, danneggiando soprattutto gli anziani. Tavolini vuoti e si respira l'aria proprio della tristezza, perché qui c'erano molti anziani che si ritrovavano per giocare le carte, per stare in compagnia. Ci hanno raccontato che alcuni purtroppo sono mancati in questo periodo, ma che anche tanti non possono neppure più venire qui per ritrovarsi. Questo locale ha un ruolo anche sociale, tanti venivano qui per giocare a carte, insomma la passione degli anziani. È possibile giocare a carte durante la settimana, comunque entrando con la mascherina, tenendo il giusto distanziamento sociale, sanificando il tutto e portandosi le carte comunque da casa, non usando né tovaglie né cose né niente, perché comunque deve rimanere il tavolo libero, quindi sanificabili in ogni momento. Questo è però non più di quattro persone, non fare assemblamenti, non fare più niente di quello che facevano prima. Paura di uscire di casa, limitazioni anche per uno dei passatempi preferiti dagli anziani. Il Covid-19 ha toccato anche la briscola. Stop ai consigli sulla carta da giocare, stop a quelle storiche baruffe tra amici, stop a motti e punti contati all'ultimo giro, con i suggerimenti dalle varie tifoserie. Arrivavano anche i 50, perché gli amici degli amici, quindi gli anziani sono molto penalizzati, perché comunque è perso nel tempo, nei mesi, le compagnie, le persone si trovano che gli manca un qualcosina. Altrimenti le carte che fine dovevano fare, quelle che voi potevate dare? Le carte che avevamo prima hanno dato tutto nell'umido, nel secco, contenitori e cose. Noi non diamo più nulla, se le portano loro da casa, se le sanificano le riportano, perché altrimenti noi dovremmo buttare via un mazzo di carte a ogni partita e quindi diventa ingestibile la cosa. Una tristezza nella tristezza, sperando in tempi migliori, quando i tavolini potranno tornare ad affollarsi. Cambiamo ancora l'argomento. Conclusa la raccolta fondi, adotta un albero promossa dopo il disastro di Vaia. Devo togliermi un attimo dalla mente, quelle immagini, perché sennò faccio fatica a continuare a parlare. La commozione del sindaco di Enego, Ivo Boscardina, al passaggio delle immagini del disastro di Vaia e le conseguenze sui boschi dell'antipiano. Il patrimonio forestale del suo comune è stato quello più danneggiato. La commozione si è trasformata invece in un luminoso sorriso quando gli è stato consegnato l'assegno di 22.500 euro, frutto della raccolta fondi della campagna Adotta un albero, promossa da Coldiretti Vicenza. Oggi devoliamo i soldi ricavati da questo progetto al comune di Enego per creare un percorso didattico dove effettivamente si mette assieme l'associazione, il comune, la comunità montana, il GAL e il Veneto Agricoltura, appunto per creare un percorso da mettere a disposizione per gli allunni ma anche per tutti i cittadini che vogliono andare nella piana di Marcesina. Qui sarà allestito anche un laboratorio per testimoniare e saggiare diversi tipi di piantumazioni in funzione dei cambiamenti climatici previsti. Un progetto in collaborazione anche con gli alpini di Vicenza. In più stiamo appoggiando l'iniziativa dal punto di vista anche logistico, qualora venissero organizzati anche dei campi, delle visite scolastiche, insomma il coinvolgimento delle scuole e dei giovani in questa avventura. La cosa molto bella è che c'è stato un partenariato con l'Associazione Nazionale Alpini per un progetto culturale anche, oltre a quello di piantumare. Ecco, adotta un albero io penso che dovrebbe diventare un progetto per sempre, non solo legato a Paia. E ora spazio alla nostra rubrica della domenica, dedicata alla solubrità delle acque e delle nostre terre. Oggi andiamo a analizzare i valori del comune di Bassano del Grappa. Acqua, preziosa risorsa del territorio. Vediamo oggi i dati che attestano la qualità dell'acqua, di quanto esce dal nostro rubiretto di casa. I risultati riportati rappresentano le medie sulle analisi effettuate da Etra. Ogni anno 50.000 prelievi da analizzare e 2.200 campioni sull'acqua potabile. La durezza totale ha un valore di 21 gradi francesi. Il pH, ovvero l'indicatore di acidità, è di 7,8 gradi. Il residuo fisso esprime il contenuto salino dell'acqua e si attesta a 200 mg per litro. Il calcio ha un valore di 56,2 mg per litro. Il cloro residuo è inferiore a 0,05. Ancora il magnesio è a 12,4 mg per litro. Il valore del potassio è inferiore a 5. Il sodio si attesta invece a 5,4 mg per litro, elemento fondamentale per il nostro organismo. I risultati del monitoraggio interno dell'acqua potabile erogata sono disponibili sul sito internet in cui è possibile trovare le principali caratteristiche dell'acqua, comune per comune. Conclusi in Val Brenta, i campionati italiani di rafting organizzati da Ivan Pontarollo. Un successo, nonostante le limitazioni Covid. Guardate che belle immagini. 3, 2, 1, via! Sono arrivati da tutto il nord Italia i 40 equipaggi che hanno partecipato al 33esimo campionato italiano nella specialità slalom e discesa classica e la specialità slalom per l'hydrospeed del pack raft. Parliamo di rafting e una competizione indetta dalla Federazione Italiana organizzata da Ivan Team e Val Brenta Team che è stata l'unica organizzata a livello nazionale rispettando il protocollo sanitario anti-Covid. Una stagione resa impegnativa a causa delle restrizioni ma stimolante per mantenere vivo il turismo territoriale e fluviale. Il Val Brenta Team si è classificato al secondo posto mentre donne in rosa hanno schierato due equipaggi. Una manifestazione favorita dall'abbondante portata d'acqua di questi giorni e dal bel tempo che l'ha resa spettacolare e coinvolgente soddisfatti organizzatori e partecipanti. E ci spostiamo come avete visto nell'Alta Padovana chiude lunedì la fiera di Arsego di San Giorgio delle Pertiche tra le poche ad essere sopravvissute al coronavirus. Tutto esaurito per il Luna Park e enorme anticontagio per le bancarelle. Dai sei giorni classici si è autodimezzata a treme e sopravvissuta il coronavirus l'antica fiera di Arsego. Un lavoro organizzativo e di sicurezza partito durante l'estate che già era riuscito ad anticipare alcune norme del recente decreto del governo di ottobre. Già avevamo previsto l'obbligo tassativo di stare seduti e che quindi ogni banco che fosse presente in fiera aveva l'obbligo di avere i propri tavoli. Avevamo capito che c'era necessità di lavorare da parte delle attività commerciali e infatti posso dire che è una fiera interregionale perché tantissime attività da fuori regione hanno chiesto di partecipare alla fiera. Fammi di lavoro per gli attrazionisti che hanno riempito tutto lo spazio destinato al Luna Park. Il Luna Park presenta circa una sessantina di attrazioni e anche loro ci avevano fatto capire che era un periodo difficile. Quei pochi che avevano avuto l'opportunità di essere presenti nelle località turistiche in estate hanno potuto lavorare. Molti mi dicevano che su una trentina di eventi che riescono a fare in un anno ne hanno fatti pochissimi. Più di 200 gli espositori. Le aree su strada, le bancarelle, arriviamo verso i 250 ambulanti e poi un campo fiera rivisto in quanto non abbiamo accettato i padiglioni espositivi coperti. Quindi abbiamo deciso di sfidare l'aria aperta sperando nel bel tempo. Una fiera sorvegliata tecnologicamente dalla centrale operativa allestita negli spazi della scuola elementare dove vengono contate le persone che entrano dai nove varchi di accesso e la situazione viene monitorata grazie all'uso dei droni. E allora dopo questo servizio sulla fiera di Arsego noi ci salutiamo, chi si chiude qui l'appuntamento con l'informazione di Bassano. Grazie per averci seguito, arrivederci. Dalle verdi malghe dell'Alessinia nascono i formaggi, le soppresse, i salami, la coppa al vino rosso di Verona, dal sapore semplice ed unico. Provali da Cherubin. Ben trovati al meteo. Inizio di settimana ancora con un tempo stabile grazie all'ulteriore rinforzo della pressione atmosferica. Il dettaglio di lunedì 19 ottobre. Sul Veneto al mattino avremo locali nubi basse e nebbie in pianura e nelle vallate alpine ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento durante il giorno con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 3 e 8 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di Mercurio si fermerà sui 17 gradi all'incirca. Con la grafica vediamo ora la situazione a Bassano del Grappa. La giornata di lunedì vedrà ancora un tempo asciutto con sole prevalente un po' dappertutto. Dopo il tramonto saranno possibili locali foschie o nebbie. Infine, temperature stazionarie. Dal Meteo per ora è tutto. Arrivederci. Assapora le specialità dell'Alessinia. Mozzarella, latte crudo 2,80€. Cotto nazionale da Busseto Parma 15,90€ al chilo. Cherubin a Bassano via Gobbi. Cotto nazionale da Busseto Parma 15,90€.